Musica Buonasera e bentrovati con Pianeta Wisp, la puntata numero 23 della trasmissione che parla di sport amatoriale a 360 gradi. In questa nostra puntata ovviamente avremo il focus relativo a quella che è la situazione in eccellenza con i playoff, mentre andiamo in onda si sta disputando la finale provinciale tra le Logge e l'Asa Calcio Anghiari, poi settimana prossima vi daremo ampio resoconto di questo atto finale allo stadio comunale, ma faremo il punto anche ovviamente di quello che è stato il cammino sia delle Logge che dell'Asa per arrivare fino alla finalissima. Avremo approfondimento per quanto concerne la Coppa Amatori, playoff di calcio a 5 e poi anche un'ampia pagina dedicata alla rappresentativa che si appresta a disputare le fasi nazionali, ma che è stata grande protagonista comunque fin qui e poi in seconda divisione. Anche qua andremo a celebrare una delle formazioni che quest'anno ha vinto il campionato e dunque ha ottenuto la promozione in prima divisione. Tanta canna al fuoco, partiamo subito a ritmo forte, io però vado prima a presentare il mio abituale compagno di viaggio, l'uomo dei numeri Riccardo Buffetti. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Allora Riccardo, prima però di parlare di calcio, di risultati, di servizi, dobbiamo ricordare due persone che hanno fatto tanto per il calcio amatoriale Aretino. Sì, è stato un weekend nerissimo per la WISP di Arezzo, soprattutto il sabato, sono state due scomparse, due gravi lutti nel mondo amatoriale della WISP, scomparso, come saprete, Massimo Bianchini, soprattutto il nonno, conosciutissimo nell'ambiente amatoriale calcistico, ma anche nella nostra del Saracino. Assolutamente. E oltre lui la scomparsa improvvisa, a parte di un nostro direttore di gara, Paolo Susi, 50 anni appena, al quale facciamo le nostre condoglianze, a tutta la famiglia, a lasciare un bambino di 10 anni, quindi a lui e tutta la famiglia e al ragazzo. Assolutamente, ovviamente anche le condoglianze di Pianeta WISP, ovviamente, sono cose che non vorremmo mai dover commentare. E allora, Riccardo, entriamo in quello che è il nostro ambito di competenza, abbiamo detto, si sta disputando la finale tra le Logge e l'Asa, come siamo arrivati a questa finale? Allora, sì, andiamo un po' a lettura dei play-off, ci avevamo lasciati con due classifiche di eccellenza, poi sono stati i play-off che hanno visto l'Asa Calcio Anghiari nei quarti di finale passare contro il corto della Muccia 2-2, Stella Azzurra batte nel Papata 4-0, il Manciano vince le 4-1 sullo Spartak Pianeta e poi il Logge Club battere 1-0 il Dante, Dante eliminato ai quarti di finale. Alle semifinali, dove vedremo tra poco il video, l'Asa Calcio Anghiari ha battuto la Stella Azzurra ai calci di rigore dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari e le Logge Club hanno battuto 1-0 il Manciano grazie alla rete di Canginio, stesso giocatore che ha segnato l'1-0 contro il Dante, l'ammazza grandi, diciamo. E' l'uomo che in questo momento sta mettendo il suo marchio su questa cavalcata della formazione di Anghiari. Lo hai anticipato? Allora andiamo a vedere il servizio proprio sui play-off che ha preparato Riccardo Buffetti. Siamo con Francesco Pellegrini alla fine della gara a Conte a Stella Azzurra, a semifinali dei play-off. Rigori che vi hanno visto vincitori, te grande protagonista con due grandi parate. E' una vittoria che tutto il gruppo voleva fortemente anche perché ricordiamo che nel campionato con questa squadra si classificata terza abbiamo vinto sia l'andata che il ritorno quindi penso che ce lo meritavamo di arrivare alla finale e ho pensato proprio questo durante i rigori che ho affrontato i rigori senza paura con la voglia di andare in finale. Ecco, parlando anche un po' di come stai arrivati sin qui, in campionato solo sei gol subiti mi sembra, quindi otto gol subiti. E il giurone di ritorno siamo stati undici partiti senza subire gol. Un attacalcio che conferma il trend dell'anno scorso, che ha visto un finale di Coppa e Dogori, Supercoppa e adesso vediamo un'altra volta lo Stato. Sì, ora giochiamo tutto allo Stato. Ecco, a posto dello Stato ancora la tua gara non si è giocata, chi vedi meglio? Eh, è indifferente, è indifferente. Va bene, grazie e buona finale. Grazie. Mario Cangini, giocatore di Logic Lab, quest'oggi è un tuo gol, come nella gara concordante ha vissuto la partita. Che soddisfazione è, se è stato fatto che giocherete la finale contro l'Asacalcio. Bella, bella, perché dai, diciamo che è dall'inizio dell'anno che si dice che questo sogno era da realizzare. Però è sempre stato un sogno. E niente, veramente, è una bella sensazione. E per te è stata quella di oggi contro il Manciano? Eh, tosta. Il Manciano è stata una bella squadra, ha tenuto testa fino all'ultimo e anzi, diciamo che era... E' stato finitissimo il rigore di questa partita. Un tuo gol ha deciso, provi. Davo Mario! Quando è il campionato avete raggiunto i play-off all'ultima giornata, adesso siete in finale allo stadio e vi aspettavate? No, mai, mai, mai. Ho sempre detto che sarà lì per San Vassi, invece il calcio è bello per te, è sempre la sorpresa. Io ti ringrazio e bocca al lupo per la finale. Grazie. Grazie. Riccardo, è stato un campionato, una stagione di eccellenza comunque molto avvincente. Lo hai sottolineato tu, no? Il Dante, dopo alcune stagioni di assoluto dominio, deve cedere lo scettro. Per certi versi un po' il sentore che questa stagione potesse essere quella che ribaltava certe gerarchie, lo avevamo avuto anche nelle settimane scorse, no? Beh, sicuramente. Due campionati che, a parte il girone A di eccellenza, dove c'è l'ASA, che sono due anni stando continuità davvero ai risultati e porta a giocatore anche rappresentativa, quindi una squadra davvero ben messa sotto il livello di rosa. Ma le altre squadre sotto, come le Lodge, la Stella Azzurra, nel girone B, oltre il Dante, il Cortona Camuscia, il Manciano e il Papata, sono squadre che probabilmente all'inizio stagione non avremo mai dato per i play-off. Equilibri che si stanno smuovendo, che hanno portato poi, per quest'anno, vedere il girone A favorito, la finale sarà appunto Lodge Club Asa Calcio. E vedremo poi come andrà a finire, come detto, la settimana prossima vi daremo ampio risultato, è reso conto, della finalissima. A proposito di play-off, Riccardo, tempo di play-off anche nelle Calcio 5, ovviamente. Esatto, Calcio 5, mentre stiamo andando in onda, probabilmente in una replica stanno disputando anche essi. Per quanto riguarda la Serie A di Calcio 5 maschile, in finale ci sono Colcitrone contro Calcio 5 Casentino stessa, identica finale di anno scorso, così come per le donne, dove affrontarsi per il titolo di campione provinciale saranno l'Alter Ego e l'Arcobaleno. Quattro squadre, le stesse di quattro gli anno scorso. Diciamo che a differenza del Calcio 11 di eccellenza, qua, come dire, i valori sono ben consolidati e la sensazione è che ancora per un po' di tempo saranno queste un po' le squadre a farla da padrone. Abbiamo in questo primo spazio un altro servizio da mostrarvi, riguarda la Coppa Amatori, vero Riccardo? Sì, Coppa Amatori che si gioca prima della Coppa dei Play-Off, scusate, della finale dei Play-Off e che vedrà di fronte Deportivo Capolona contro lo Pergo. Le due squadre di prima divisione, Capolona che ha battuto in semifinale 2-1 le chianacce, mentre il Pergo 3-2 sul San Cipriano in una gara roccambolesca che ha visto il Pergo segnare proprio all'ultimo minuto. Quindi andiamo a vedere le parole dei due dirigenti del Pergo e del Deportivo Capolona che ci hanno raccontato un po' come vivranno anche la finale. Andiamo al servizio. Allora, siamo alle due partite di Capolona-Chianacce, semifinale Coppa Amatori, siamo col Capolona. Prima finalista di questa edizione da Coppa Amatori andiamo dal mister Massimo Ormani. Mister, che partita è stata quella di questa sera? Beh, tosta. Tosta perché si giocava con una squadra che secondo me mette molta grinta nelle giocate che fa, però la mia squadra ha un altro passo, tecnicamente siamo stati troppo più forti perché la partita a primo tempo doveva essere chiusa tranquillamente e invece nel finale ultimo abbiamo un pochino sofferto, un pochino sofferto ma relativamente, penso che nel secondo tempo non abbiamo fatto un tiro a porta. e beh, bene così, bene, bene, bene. Nicola, primo in campionato, finale allo stadio, stagione da sogno questa per Capolona. Sì, bisogna fare l'ultimo passo venerdì ora in trasferta con la seconda, col Banco Latino, speriamo che vada tutto bene, sarebbe una bella soddisfazione per Capolona e per questa squadra che è cinque anni, che prova a raggiungere questo obiettivo importante. Speriamo che vada bene, ora ci godiamo questo successo e la finale mercoledì allo stadio. Con Paci Francesco, giocatore del Pergo, quest'oggi... quest'oggi fortunato e quindi di supporto alla squadra. Siamo alla semifinale contro il San Cipriano. Che percorso ha avuto fin qui per questa Coppa, Amatori? Eh, diciamo che ha avuto un bel percorso. Abbiamo cominciato col botto, con una bella vittoria contro le Chianacce, quindi anche non derby. Poi siamo venuti a giocare la seconda partita del girone qua contro una squadra di seconda categoria e onestamente potevamo giocare meglio, ce la siamo giocata ai rigori e purtroppo hanno vinto loro. Comunque siamo passati come prima e la terza partita l'abbiamo giocata sempre qua, non ricordo il nome della squadra, forse la Stella Azzurra, se non ricordo male. E anche in quel caso ce la siamo giocata ai rigori, ne abbiamo battuti 8-9 e fortunatamente alla fine ce la siamo cavata e eccoci qua stasera a giocarci la finale sperando di poter calcare il terreno dello stadio comunale d'Arezzo. Partita di seconda divisione, girone B dodicesima, giornata del girone di ritorno, sono affrontate San Polo e Real Pieve, la gara è terminata 1-1, al gol di Acciai Marco del DC San Polo, ha risposto quello di Massone Luigi per il Real Pieve. Andando a vedere la classifica, il San Polo con questo pareggio arriva a 27 punti, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi, 7 sconfitte su 26 gare giocate, 30 gol fatte e 35 gol subiti, mentre Real Pieve rimane a quota 8, frutto di 25 partite giocate, 0 vittorie, ancora 8 pareggi, 17 sconfitte, 10 gol fatti e 53 gol subiti. Nel prossimo turno il San Polo giocherà in trasferta contro il Val di Loreto, mentre il Real Pieve è in casa contro il Buccinella United. E dopo aver visto anche questo secondo servizio relativo alla Coppa Amatori, Riccardo, prima di andare in pubblicità, appuntamento con la rubrica più attesa, la Top 11, l'anticipiamo per questa puntata, in questo primo spazio, allora che sono stati i migliori per la Wisp in questa settimana. Per questa Top 11 abbiamo deciso di schierare sia i giocatori migliori del campionato che quelli di playoff, quindi sarà un po' un misto. Un mix, prego. In porta Pellegrini, Asacalcio Anghiari, grande protagonista dei playoff con delle parate decisive, a cacci di rigore durante la partita. Difesa a Piomboni, Asacalcio Anghiari, ottima prestazione del centrale nella semifinale dei playoff contro la Stella Azzurra. Millie, Roger Club, tiene bene la difesa nella gara vinta contro il Manciano, che vale la finale, e poi Badighi della Stella Azzurra, l'ultima gara giocata del centrale contro l'Asacalcio. Centrocampo, la Mazzagrandi, Cangini, Roger Club, dopo la rete che ha imitato il Dante, ne arriva un'altra decisiva contro il Manciano. Poi andiamo al campionato, Burioni, Nuova Biturgia, tripeta dei giocatori nel 7-2 contro il Real Madrid, che vale i playoff di seconda divisione. Marchi, Sales Figlini, due reti decisive nella gara contro l'Arcimatassino e Sassolini, nel Santa Maria, nel 3-0, rifiato al Quarata, il giocatore si mette in mostra con una bella doppietta, che vale, perché no, una possibile salvezza. In avanti, spazio a Dragoni e Alveroro, tripeta nel 6-1 sulla Gagliarda, con cui l'attaccante raggiunge quota 16 reti in campionato. Poi Mastrangelo della Leccese in grande spolvero con 4 reti nel 7-2 contro la Cicogna, complessivi di 19 gol stagionali. E infine, Casini del Battifolle, tristi reti anche per l'attaccante, nella gara vinta 5-3 la sua squadra contro il Montalto. Grazie Riccardo, la top 11 torna la prossima settimana, ora siamo in chiusura di questo primo spazio, pubblicità e poi seconda parte di Pianeta Wisp. Seconda parte di Pianeta Wisp dopo aver analizzato quello che è accaduto nei play-off di eccellenza e approfondito anche quella che è la situazione in Coppa Amatori in questo secondo blocco Doyle benvenuto a Claudio Comanducci, allenatore della rappresentativa Aretina. Buonasera Claudio. Salve, buonasera, grazie. Ti abbiamo inseguito a lungo, ce l'abbiamo fatta finalmente ad incastrare tutti i nostri, i tuoi impegni, anche perché insomma sei stato uno comunque dei protagonisti di questa stagione calcistica per quanto riguarda la Wisp. Ricordiamo comunque gli ottimi risultati della rappresentativa Aretina sconfitta in finale con Empoli, ovviamente poi parleremo anche di questo, ma vi apprestate anche a disputare la fase nazionale. Questo premia sia il tuo lavoro che ovviamente poi quanto fatto in campo da tuoi ragazzi. Riccardo, ovviamente faremo anche il punto in prima divisione. Claudio, però voglio partire con te. Tra pochi giorni sarete a Montecatini. Insomma, è un premio anche a quello che avete fatto. Assolutamente, è un premio, una grossa soddisfazione per quello che comunque abbiamo fatto. Premetto che rimane un po' l'amarezza, rimane l'amarezza di essere per quella finale persa rigori. Ci tengo a sottolineare che sul campo non abbiamo perso. veniamo da quattro partite con zero reti subite e questo ci fa comunque ben sperare. Abbiamo lottato alla pari contro effettivamente una gran bella squadra, onestamente. Non abbiamo sfigurato e questo è un motivo d'orgoglio. Un motivo d'orgoglio in più anche come diceva ragazzi nello spogliatoio di aver dato alla rappresentativa un'anima. Più una squadra che una selezione. Questa è la cosa di cui vado forse più orgoglioso personalmente. Non è facile poi non mettere insieme ragazzi che durante l'anno non giocano insieme e magari spesso sono anche avversari. Assolutamente, assolutamente. Ci sono piccole soddisfazioni durante la stagione vedere un ragazzo di Fogliana che va insieme a un compagno di squadra di Bibiana a prendere un caffè. Sono piccolezze però per una rappresentativa è comunque un motivo di soddisfazione e orgoglio. Vuol dire che qualcosa dietro c'è al di là dei risultati. Assolutamente. Riccardo, tu hai seguito ovviamente la rappresentativa anche poi in finale. Noi abbiamo commentato insieme la gara d'esordio contro Firenze tra l'altro una vittoria netta sul campo di Bonconte da Montefeltro. Va detto insomma che quello che dice Claudio è poi provato anche sul campo. Una squadra che ha giocatori di valore partendo anche da un blocco difensivo importante. Sicuramente è un gruppo che è iniziato a crescere l'anno scorso oltre a Claudio con Luca Torzoni e Andrea Cappini i suoi collaboratori che hanno creato questo gruppo unito e coeso e che ha dimostrato di valere e anche tanto. Tenere in testa una rappresentativa come Empoli non è facile considerando anche il livello di giocatori che ha Empoli. Noi per una buona parte del primo tempo siamo stati anche superiori alla squadra empolese poi i rigori purtroppo sono una lotteria per noi soprattutto maledetta. Ecco Claudio adesso questa fase nazionale e con quali ambizioni vi presentate. Di fare una partita per volta come è nel nostro spirito chiaramente un minimo di ambizione ce l'abbiamo un minimo non conosciamo le nostre avversarie che sono Pesaro Urbino e Bologna sappiamo che nell'altro girone c'è Empoli che è comunque la squadra da battere vedremo dopo partita dove possiamo arrivare la nostra volontà è di non fare una gita a Montecatini di andare là per giocarsela al meglio Ecco a proposito di questo avrai tutti i migliori a disposizione hai potuto insomma pescare il meglio anche per questa fase finale infatti devo ringraziare nuovamente anche le società che ci hanno messo a disposizione i giocatori sfruttando anche il fatto che l'eccellenza è seconda è finita quindi i giocatori ce li mandano anche più volentieri quindi possiamo pescare su quello che è il meglio il meglio tra virgolette il meglio e porteremo 22-23 giocatori anche perché ricordiamo il sabato avrete due gare nella stessa giornata quindi è obbligatorio fare turnover due gare una alla mattina una al pomeriggio poi le eventuali altre fasi la domenica e allora poi torneremo a parlare con Claudio Comanducci apriamo la pagina dedicata alla prima divisione Riccardo qua due partite al termine della stagione però alcuni verdetti sono già maturati cominciamo dal girone A andiamo a leggere quello che è successo in questa giornata Poppi Piazzetta 3-1 Indicatore Bocastrada 1-0 Banco Valtino Capolona 1-1 Santa Maria batte in trasferta 3-0 il Quarata 1-1 fra Barla Siesta Castelluccio Siesta risultato fra Patrignone e Falciano San Marco Lions Salleo 1-0 Desmo Pionto San Germain 2-1 Capolona in testa con 42 punti matematica vittore del campionato e promozione eccellenza poi se la giocheranno fino all'ultimo Banco Valtino e San Marco che sono a 38 Falciano 34 Bocastrada Piazzetta 33 Lions Salleo 32 Indicatore 31 Barla Siesta 26 Poppi 24 Castelluccio 23 Desmo 22 Patrignone 19 per la salvezza Santa Maria Pionto San Germain 18 e Quarata 17 Riccardo Dele Capolona che è già promosso in eccellenza nella volata per il secondo posto chi vedi favorito? Sono due squadre che hanno disputato un campionato molto attalenante sia Banco Valtino che San Marco partito meglio forse San Marco con gli auspici dei pronostici poi Banco Valtino invece ha saputo con una partenza non bellissima riprendersi e dare fastidio anche al Capolona quindi non lo so se giocheranno fino all'ultimo secondo me Allora vedremo quello che accadrà in queste ultime due giornate non so Claudio se vuoi fare anche un commento a questo giro di prima divisione Da sottolineare l'ottima prova del Deportivo Capolona di cui qualche giocatore ha anche fatto parte delle selezioni della rappresentativa una squadra di giovani un'ottima squadra che penso che anche il prossimo anno in eccellenza darà a firo da torcere quelle che sono le squadre storiche dell'eccellenza veramente un'ottima squadra e allora Riccardo andiamo a vedere anche quello che invece è la situazione nel girone B di prima divisione Allora più un recupero il 2-2 fra Sialonga e Battifolle questa giornata ABM Bagliese 3-0 Pergo Fogliano 3-2 Pontevogliano batte 1-0 in trasferta Rezzo West poi Sialonga Farneta 1-1 Alberoro Gagliarda 6-1 Le Chianacce in trasferta battono 3-1 il San Lorenzo Monti United 2-1 e poi Battifolle Montalto 5-3 Per questi risultati la classifica ci dice Alberoro primo con 42 punti secondo ABM a 39 terzo il Pontevogliano con 38 punti poi Arezzo West 37 Battifolle 34 Pergo e Monti United 31 Fogliano 28 Badiese e Montalto 26 Farneta 23 Chianacce 21 Gagliarda 20 Superstar 18 San Lorenzo 17 e Asinalonga 15 Allora anche qua Riccardo una classifica in testa comunque si sta sgranando soprattutto perché l'Alberoro vede il traguardo a questo punto Vede il traguardo ma attenzione all'insidio a Pontevogliano che ha battuto una delle concorrenti per la promozione della Arezzo West 1-0 e deve recuperare una gara quindi in caso di vittoria di quella gara arriverebbe a quota 40 e poi nell'ultima giornata ancora ce ne sono due ci sarà lo scontroietto Alberoro Pontevogliano E allora vedremo se poi l'ultima giornata sarà decisiva Claudio ti chiedo anche qua insomma un commento di sicuro la squadra di Alberoro tra l'altro un nostro collaboratore rappresentativo una squadra che ha ben figurato già dall'anno scorso e quest'anno si sta confermando su ottimi livelli abbiamo poi il Pontevogliano una squadra comunque conosciuta da tutti che lotterà fino alla fine per cercare la promozione diretta e l'ABM della mia punta Marco Berterame è assolutamente un giocatore le cui qualità che ti ha fatto particolarmente comodo molto 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 comodo veramente un giocatore che fa comodo io lo dico sia dentro che anche fuori il campo fa comodo in tutte e due le fasi io l'ho visto giocare appunto ad Arezzo contro Firenze oltre a essere comunque uno che in area di rigore i golli fa però anche un giocatore che gioca per la squadra gioca per la squadra gioca molto spalla alla porta e per come stiamo giocando noi ci fa molto molto comodo ecco purtroppo non l'avrai sabato probabilmente no probabilmente no lo utilizzeremo la domenica non so per quale partita ma lo utilizzeremo la domenica sabato giocherà nella gara contro il Montalto ai tre e mezza giustamente è chiaro è una BM che si sta giocando la promozione dunque è assolutamente necessario che abbia il suo bomber 18 gol e capo cannoniere del girone B è un'assenza sicuramente pesante per la rappresentativa sabato ma gli elementi per sostituirlo non mancheranno ci sono ci sono assolutamente c'è il crema di fare del nostro meglio ecco abbiamo prima fatto il punto dell'eccellenza quella che è la situazione playoff poi mentre stiamo andando in onda si disputa la finale ti chiedo anche un giudizio sull'eccellenza ti ha sorpreso un po' certi risultati magari soprattutto nel girone B gerarchie che si sono un po' stravolte si sono stravolte guardando un po' le partite parlando anche con Cappini e Torzone anche con lo stesso Riccardo quello che un po' si vedeva era forse una qualità leggermente superiore nel girone del Casentino rispetto al girone B cosa che poi alla fine si è rispecchiata vedendo la finale una finale Lodge contro Asanghiari due ottime squadre permetti di spendere due parole per l'Asa una squadra che assolutamente non solo in più fatte anche al nazionale porteremo cinque giocatori una squadra che sta facendo bene da due anni ha preso se non erro otto reti in un campionato solidità difensiva veramente ottimi livelli ottimi livelli ottima squadra anche le Lodge perché è una squadra che rientra di rincorsa rientrata al quarto posto buona individualità come Cangine ad esempio un giocatore che sto corteggiando da tanto tempo e sarà di sicuro una bella finale combattuta ecco ovviamente questa fase finale chiude comunque un anno importante però è un punto di partenza per provare ad arrivare davvero fino in fondo assolutamente ci proveremo la base l'abbiamo costruita il gruppo l'abbiamo costruito ci manca un piccolo passo per Scaramanzio non si dice nulla ecco cosa manca nel senso solo un pizzico di fortuna magari un po' più di convinzione oppure comunque Empoli effettivamente in questo momento è superiore Empoli è un'ottima squadra è un'ottima squadra ma abbiamo dimostrato di giocarcela alla pari forse loro rispetto a noi sono abituati a giocarle queste fasi ricordo che hanno vinto per tre volte di fila il regionale se non erro anche tre volte di fila il nazionale quindi magari rispetto a noi paghiamo forse lo scotto di esserci arrivati quest'anno per la prima volta quindi magari finito la partita poi ci abbiamo ragionato anche tra di noi dentro lo spogliatoio e magari avere un'esperienza in più di giocare queste partite a volte a volte conta beh senza dubbio Riccardo siamo quasi in chiusura non so se vuoi aggiungere qualcosa anche rispetto a quello che ha detto Claudio insomma un po' così andiamo in pubblico sicuramente l'essere arrivati a rigori è un risultato molto grande l'essere arrivati addirittura in finale è mai successo finora per la Wisp ricordiamolo che è un risultato storico quindi direi che essere arrivati a calci di rigori vuol dire avere tutto testa a Empoli che appunto venissete prima Claudio una squadra che per tre anni in fila ha vinto sia regionali che nazionali quindi è una squadra abituata a giocarsi le finali e a vincere noi gli abbiamo dato filo da torcere fino all'ultimo minuto e perché no il prossimo anno potremo tentare o anche a Montecatini vediamo vediamo non poniamo limite assolutamente no magari proviamo a Montecatini che la sorte sarebbe una bella vincita assolutamente e allora siamo in conclusione di questo secondo spazio di Pianeta Wisp ringrazio Claudio Comanducci allenatore della rappresentativa Arettina Wisp ovviamente in bocca al lupo per queste fasi nazionali che vedranno protagonista la rappresentativa nel weekend adesso andiamo in pubblicità e poi terza ed ultima parte di Pianeta Wisp terza ed ultima parte di Pianeta Wisp apriamo la pagina dedicata alla seconda divisione anche perché dobbiamo celebrare una squadra che quest'anno ha vinto le campionate dunque ha ottenuto la promozione in prima divisione parliamo della Rettinos Junior siamo con il portiere presidente Francesco Zelli buonasera Francesco e con l'allenatore Niccolò Cherici Mascagni buonasera buonasera a voi grazie per l'invito intanto ovviamente complimenti per questo successo Niccolò parto da te è una domanda un po' banale qual è stato il segreto di questa stagione che vi ha visto comunque chiudere al primo posto anche il ciclone è andato in prima divisione però insomma avete avuto anche la soddisfazione di arrivare davanti a tutti ma innanzitutto parto con una battuta ti faccio un ringraziamento perché dopo che abbiamo partecipato alla vostra trasmissione abbiamo fatto 17 risultati utili consecutivi Pianeta Wisp porta bene ecco quindi ecco devo dire assolutamente che porta bene no il segreto scherzi a parte è stato sicuramente l'impegno del gruppo e la creazione di un gruppo importante eravamo siamo una squadra nuova che si è formata quest'anno prendendo giocatori da varie realtà da realtà diverse ci siamo amalgamati subito molto bene si è creato subito un grosso feeling tra i ragazzi e questo ha portato diciamo a un impegno costante a una a una negazione a una coesione appunto tra i ragazzi che si è vista poi nel campo e si è vista lottando fino all'ultimo e riuscendo proprio al photo finish a conquistare questo traguardo insperato diciamo anche a un certo punto ecco Francesco in questo momento ti chiamo in causa da presidente il mister è confermato dopo oppure ha qualche offerta da categoria superiore ormai purtroppo siamo costretti no vabbè innanzitutto ci tengo nel ruolo istituzionale per ora a ringraziare comunque Niccolò perché diciamo è stato impeccabile da giugno quando siamo partiti fino a oggi ha fatto un lavoro importante ovviamente anche i ragazzi la squadra ha contribuito a lavorare bene e quindi poi il risultato si è visto siamo partiti diciamo un po' un po' rilento ecco su questo volevo chiedere cioè l'obiettivo era quello di fare comunque un campionato di vertice o come dire vi siete accorti che poteva essere un anno particolare strada facendo come dissi all'epoca l'obiettivo comunque era quello di fare di creare una squadra nella quale stare bene poi ovviamente il calcio è anche fatto di risultati quindi poi vincere fa piacere a tutti in corso d'opera abbiamo visto che comunque c'era passo dopo passo sempre l'opportunità più grande e quindi abbiamo abbiamo cercato di coglierla e poi alla fine è andata bene torneremo a parlare ovviamente sia con Niccolò che con Francesco andiamo allora a vedere quella che è la classifica definitiva del girone A di seconda divisione perché poi Riccardo ci sono anche da registrare quelli che sono gli accoppiamenti playoff sì prima partiamo dall'ultima giornata assolutamente Nuovi Tugger Real Madrid 7 a 2 Marcena Ciclone 4 a 2 il Ceciliano batte 2 a 0 la Randagia in trasferta Gazzi Locomotivirassina 2 a 2 Saluti River Club 2 a 0 Etinos Junior batte 2 a 0 in trasferta il Motina e poi Salione Bayer Guido Monaco 1 a 0 classifica finale Aretinos Junior primo con 35 punti secondo il Ciclone con 34 che accendono lentamente alla prima divisione poi i playoff saranno fra River Club 34 punti Saluti 31 Nuovi Tugger 30 punti e Agazzi sempre a 30 il resto della classifica vede il Locomotivirassina a 29 Ceciliano 27 Motina e Randagia a 25 Bayer Guido Monaco 22 Marcena 18 Real Madrid 13 e Salione 11 allora Riccardo gli accoppiamenti per quanto con c'è nelle semifinali che si giocheranno settimana prossima allora le semifinali saranno River Club a Visbo Cagazzi giocheranno a Gragnano martedì 15 mentre mercoledì 16 a Salutio Salutio Nuovi Tugger Niccolò qual è stato il momento in cui hai capito che potevate conquistare questa promozione diretta? ma senti allora devo dire che l'ho capito subito dopo la sosta invernale perché la squadra nel mese di sosta ha fatto 11 allenamenti e due amichevoli e credo che sinceramente non sia da tutti nel periodo invernale con i freddi con le vacanze e tutto fare questo tipo di allenamento e in effetti ha pagato perché poi siamo arrivati fino appunto a fine aprile fino a maggio con la benzina noi arrivavamo nei secondi tempi abbiamo deciso molte partite nei secondi tempi perché le squadre crollavano e noi invece avevamo ancora benzina in corpo logicamente via via che passavano le giornate iniziavo a crederci sempre di più il risultato del River venerdì ci ha dato la consapevolezza di poter di avere la promozione nelle nostre mani e non abbiamo fallito l'obiettivo poi il risultato del ciclone ha favorito la vittoria del campionato senza dubbio però insomma vi siete messi nella condizione di poter ovviamente conquistare questo primo posto guardando anche in in prospettiva questa poi lo chiedo anche a Francesco è una squadra che come dire verrà immagino confermata farete qualche innesto innesto comunque è una rosa ha una qualità per poter far bene anche in prima divisione dove riuscire ad impattare un campionato di categoria superiore sicuramente la prima è un campionato io ho avuto la fortuna di allenare anche in prima è un campionato totalmente diverso è un campionato decisamente superiore la conferma in toto del gruppo io la metto come una condizione base perché è un gruppo veramente troppo importante per poterlo disunire per poterlo sfaldare serve sicuramente qualche innesto di qualità più umana che tecnica perché essendo un gruppo appunto così unito è importante mettere persone importanti più che giocatori importanti logicamente abbiamo magari dei ruoli un pochino scoperti e cercheremo ad andare a colmare le lacune in quei ruoli lì Presidente allora qua bisogna intervenire sul mercato sì no vabbè portiere confermato portiere confermato no a parte scherzi come ha detto Niccolò sarebbe anche un peccato andare a sciupare quello che si è venuto a creare ovviamente la prima è un campionato più competitivo sicuramente e magari se ci fosse la possibilità di andare a prendere qualche giocatore magari bravo sicuramente quello cercheremo di farlo mantenendo però come ha detto lui il lato umano in primo in primo il primo aspetto insomma perché credo che sia a questi livelli fondamentale insomma ecco non andare a scombussolare troppo certe dinamiche certe regole che ci siamo dati quando siamo partiti insomma assolutamente è una situazione da sottoscrivere ampiamente tra l'altro poi ovviamente chiediamo anche al nostro regista di inquadrare quella che è la maglia della Retinos Junior ovviamente l'hanno portata i nostri ospiti e quindi la inquadriamo anche per i nostri telespettatori Riccardo torneremo a parlare con i nostri ospiti ma adesso andiamo a vedere quello che invece è la situazione definitiva nell'altro girone di seconda divisione il girone B sì allora anche qui mancano due giornate al termine in questo turno 2 a 2 fra Barle Fonti e l'Isola 1 a 1 fra Real Pieve e Burcinella San Polo batte 2 a 1 il Val di Loreto Pratantico Fonterosa 1 a 0 2 a 2 fra Real Club Montagnano e Albergo Oliveto Amatori Fogliano Gold Boys 3 a 1 e Atletico Val di Chiana batte 5 a 1 e QPS Andrea l'Isola conquista per la matematica la promozione in prima divisione con 40 punti secondo il Val di Chiana 35 Racklevo Montagnano 33 Fonterosa 32 Burcinella Rigomagno 31 poi Sportivo Albergo Oliveto 30 San Polo 29 Gold Boys Pratantico 28 Amatori Fogliano 25 QPS Andrea 16 Valle Fonti 14 Val di Loreto 11 e Real Pieve 9 allora anche qua Riccardo hai sottolineato come l'Isola che comunque ha dominato di fatto questo girone quest'anno si merita ampiamente la promozione in prima divisione e dietro insomma per il secondo posto è ancora lotta anche se chiaramente l'Atletico Val di Chiana ha questi due punti di margine che potrebbero bastare Sì ma è interessante la lotta anche per i playoff vediamo che fino al decimo posto Pratantico ancora in caso di vittoria in entrambe le partite può rientrare nel sesto posto quindi sicuramente uno dei campionati più equilibrati che ci sono Ecco a proposito di playoff Niccolo l'introduzione di playoff in seconda divisione anche in prima poi sono stati introdotti questa novità rende comunque molto più interessante anche i finali di campionato tu come la valuti? Secondo me l'introduzione dei playoff soprattutto nel campionato di seconda divisione rende i campionati ancora più avvincenti fino all'ultimo ad esempio anche nel nostro girone fino alla nona decima squadra fino all'ultima giornata si sono giocati l'accesso ai playoff forse io magari li rivedrei su una differenza di punteggio tra la terza e la quarta perché magari se la terza classificata ha 4-5 punti di vantaggio sulla quarta magari meriterebbe direttamente l'accesso nella categoria superiore però la formula può essere rivista senza problemi secondo me è stata un'introduzione intelligente una formula che ha portato ad avere dei campionati competitivi e tirati fino all'ultimo assolutamente quindi questo può come dire un'annotazione che abbiamo sottolineato spesso Riccardo complimenti anche comunque alla WISP a Giorgio Fucini che è responsabile della struttura calcio per avere ovviamente pensato anche a questa formula innovativa Francesco nello spazio precedente abbiamo avuto Claudio Comanducci allenatore della rappresentativa tu ovviamente oltre ad essere una colonna della Retinos Junior portiere sei anche il portiere della rappresentativa insomma è stata per te comunque un'annata di doppia soddisfazione è vero? c'è l'amarezza per la sconfitta in finale con Empoli avrete nelle fine settimana la fase nazionale però insomma anche la rappresentativa faccio volentieri due parole anche con te abbiamo parlato con il mister siete un gruppo che sì assolutamente è stata un'esperienza molto molto bella purtroppo c'è mancata diciamo la ciliegina finale però a questi livelli e con queste squadre secondo me era comunque già un risultato ottimo essere arrivati in finale aver riportato ai rigori una squadra che sta dominando negli ultimi anni e aver perso poi comunque portati all'ultimo rigore quindi abbiamo venduto la pelle carissima e poi come aveva detto mister Comanducci prima si è venuto a creare anche un bellissimo gruppo dentro la rappresentativa che non è mai semplice perché alla fine comunque ti vedi una volta ogni una volta all'anno quasi insomma adesso e quindi credo che anche la possibilità di fare i nazionali ci darà l'opportunità di conoscerci sempre di più in una diciamo stare insieme due o tre giorni e questo anche per il futuro credo che possa essere una un quid importante che ci possa poi far crescere ulteriormente poi ricordiamo insomma siete una squadra che non ha subito gol quindi merito tuo merito comunque anche di una difesa abbiamo ricordato la coppia centrale dell'Asa sono due importanti la gran parte del merito va ovviamente alla squadra poi il portiere l'ultima l'ultima opportunità però abbiamo fatto anche se c'è stata la parata al settantesimo contro Empoli del calcio di rigore si diciamo qualcosa dovevo fare anch'io però comunque nel complesso ho avuto dei compagni di reparto veramente bravi come ovviamente tutto il resto della squadra Nicola volevi aggiungere che paradossalmente durante l'anno tremavo molto di più quando ci davano un calcio d'angolo contro che un calcio di rigore perché i calci di rigore ne ha parati 4 su 5 i calci d'angoli purtroppo sono sempre stati le nostre bestie nere e quindi no no giustamente questa è una statistica molto molto interessante Riccardo dobbiamo recuperare la girone C di prima divisione è quello del Val D'Arno che prima l'avevamo lasciato in sospeso così chiudiamo anche quella che è la situazione in prima divisione e poi andiamo a chiudere perché il tempo si il campionato qui è finito è solo una giornata da recuperare una partita anzi la Ginestra Zona Franca verrà recuperata in questi giorni nell'ultimo turno le Cese Cicogna 7 a 2 Stella Azzurra Valdarno Arcilevane 4 a 1 Pian di Scuese batte 1 a 0 il Caccia Figlini Matassino 2 a 0 Spartareggello 2 a 0 sul San Cipriano e poi Castelfranco batte 1 a 0 la Ginestra conquista il titolo e la possibilità di giocarsi i regionali il Caccia con 41 punti a pari punti lo Spartareggello però per via della differenza passarete gli scontri diretti passa il Caccia poi le Cese 39 Stella Azzurra Valdarno 30 Salesfine 29 Castelfranco 28 Matassino Elevalen 22 San Cipriano 18 Pian di Scuese 17 Cicogna 12 la Ginestra 5 e Zona Franca 4 complimenti alla Caccia che ha vinto il campionato prima di chiudere dove andrete a festeggiare già decisa sì molto probabilmente un weekend in Riviera Romagnola che come dire è un classico che non si sbaglia mai il classico che non si sbaglia mai si va sul sicuro sì penso proprio di sì complimenti ovviamente a voi ad estendere a tutta la squadra in bocca al lupo ovviamente per il prossimo campionato in prima divisione dunque ringrazio Niccolò Crici Mascagno grazie a voi ringrazio Francesco Zelli portier e presidente ovviamente della Retinos Junior Riccardo prima dei saluti ricordiamo gli appuntamenti web con Pianeta Wisp potrete vedere Pianeta Wisp in social della Wisp di Arezzo Facebook Twitter YouTube poi per quanto riguarda tutte le notizie sul calcio le classifiche risultati aggiornati in tempo reale c'è il sito calciowisparezzo.it e da quest'anno anche l'applicazione Wisp Arezzo scaricabile per smartphone e in più per quanto riguarda le manifestazioni e gli altri sport che riguardano il compitato a retino Wisp Arezzo c'è il sito wisp.it slash arezzo L'appuntamento su Teletruria è le mercoledì alle 22.30 le altre repliche le vedete in sovraimpressione ringrazio Jonathan Barillari che ha curato come sempre le riprese e la regia di Pianeta Wisp l'appuntamento con la nostra trasmissione è tra 7 giorni